19 gennaio 2023 messaggio ultimo della regina della pace di anguera cercate la luce di dio e sarete beati in eterno si è vero bisogna cercare la luce di dio affinché elli possa donarci la beatitudine eterna questo uno dei messaggi che ritroviamo nel testo dell'ultima apparizione della regina di anguera della madonna che dona messaggio al veggente pedro regis non dobbiamo farci contaminare dalle false dottrine e andare avanti con decisione verso il signore che è l'unica nostra vera meta uno stupendo messaggio meravigliose parole su cui dobbiamo riflettere tutti purtroppo dice la madonna la verità sarà sempre meno presente nel mondo e dunque bisogna essere molto attenti leggiamo il messaggio cari figli sono la vostra madre e sono venuta dal cielo per condurvi dal mio figlio gesù pregate solo con la forza della preghiera potrete comprendere la mia presenza in mezzo a voi siete amati dal signore ed egli si aspetta molto da voi non permettete che il pantano delle false dottrine vi contamini siete del signore e solo lui dovete seguire e servire state camminando verso un futuro in cui la verità sarà presente in pochi luoghi la grande cecità spirituale si diffonderà e molti saranno colpiti cercate la luce di dio rimanete fedeli alla chiesa del mio gesù e sarete proclamati beati dal padre avanti senza paura questo è il messaggio che vi trasmetto oggi nel nome della santissima trinità grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta vi benedico nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen rimanete in pace grazie per avermi permesso di riunirvi qui grazie per avermi permesso di riunirvi qui